Buonasera, io sono Giovanna Zane, vinda turistica di Venezia anch'io e l'ho trovato interessante perché tutti noi ci stavamo accorgendo che il mondo del turismo stava cambiando ma non avevamo capito la chiave di lettura e invece con questa tecnica credo che possiamo svecchiare il nostro vecchio modo di lavorare e trovare un modo di interagire diverso coinvolgendo molto di più le persone che vengono a visitare Venezia.